Musica 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 Difficilmente potremmo mai scordarle le immagini del 18 marzo 2020 quelle dei mezzi dell'esercito che trasportavano le bare delle vittime per covid erano le immagini dell'impotenza che inchiodavano tutti noi anche i più svagati di noi i più scettici di noi a una realtà che aveva già preso drammaticamente il sopravvento quelle immagini venivano da Bergamo città tra le più colpite dalla pandemia tanto da diventarne il triste simbolo il presidente della Repubblica Mattarella ci andò a fine giugno scorso quello del Consiglio Draghi ci sta arrivando ora oggi 18 marzo giornata nazionale dedicata alle vittime del coronavirus istituita per legge giusta la vigilia ieri la decisione è stata presa naturalmente all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato riunita in sede deliberante che insieme al dolore per chi non c'è più ha urlato anche la propria anomalia perché non era mai successo che una giornata venisse dedicata a qualcosa di non ancora trascorso che restasse cioè solo da ricordare da celebrare per una ragione o per un'altra per di più quasi sempre ad anni e anni di distanza come per esempio la giornata delle foibe il 10 febbraio istituita nel 2004 o quella per le vittime del terrorismo istituita solo nel 2007 il 9 maggio a 29 anni esatti dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro oggi mentre Draghi sarà a Bergamo in tutti i comuni le bandiere saranno a mezzasta un saluto estremo un segno di deferenza nei confronti dei caduti del coronavirus e delle tante famiglie costrette a piangere i loro cari un fatto inedito che può spiegarsi solo con la condizione di eccezionalità in cui siamo sprofondati o forse meglio confinati come dedicare un monumento a qualcuno ancora in vita solo che qui da celebrare non c'è proprio nulla e in certo senso nemmeno da ricordare perché la ferita è ancora lontana dall'essersi chiusa semmai c'è solo da esorcizzare da insegnare da confidare che quanto prima grazie al vaccino possano distinguersi le prime cicatrici solo allora si potrà parlare davvero a tutti gli effetti di giornata del ricordo Buongiorno cari telespettatori questa è la copertina di Luca Giannelli oggi dunque la prima giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia sentivate che il presidente del Consiglio Draghi stamattina è a Bergamo alle 11 deporrà una corona di fiori nel cimitero monumentale e poi inaugurerà il Bosco della Memoria e c'è attesa per sentire le parole del premier intanto in questa giornata ricordiamolo perché ci fa piacere i medici e tutto il personale sanitario italiano sono stati candidati al Nobel per la pace 2021 un'iniziativa che ha ricevuto già il benestare di Oslo e che è stata promossa dalla fondazione Gorbashov oggi poi è una giornata molto importante lo sappiamo perché nel pomeriggio credo nel pomeriggio si è atteso il verdetto sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca da parte di EMA che è l'agenzia regolatore l'agenzia del farmaco europea l'organizzazione mondiale della sanità in questi giorni in pressing ha continuato a rassicurare dicendo che il vaccino di AstraZeneca va adoperato l'Unione Europea intanto nei confronti di AstraZeneca si prepara ad una nuova stretta sull'export lo sapete c'è una querella un contenzioso con la Gran Bretagna l'Unione Europea che ieri ha annunciato anche il cosiddetto pass covid anzi il certificato verde come è stato definito che sarà quella carta che permetterà a tutti i cittadini europei da giugno di viaggiare insomma più liberamente con più tranquillità attraverso l'Unione Europea dimostrando ovviamente di essere stati vaccinati di essere negativi al covid o di essere guariti dal coronavirus bentornato Roberto Arditti direttore editoriale di forbiche.net buongiorno Roberto salutiamo intanto gli altri nostri ospiti bentornata Elena Lucaselli di Fratelli d'Italia buongiorno buongiorno a voi grazie saluto e ringrazio il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova buongiorno buongiorno segretario dimissionario di più Europa poi ne parliamo detto bene dimesso verso il congresso però insomma ci farà capire anche quante strade quali sono le strade per più Europa ma non solo per più Europa saluto Mario Lavia dell'inchiesta Mario buongiorno 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 e più tardi perché poi altre cose nella vita continuano cercano insomma di continuare parleremo anche dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ci sono moltissime iniziative ieri ne ha parlato peraltro nei giorni scorsi il ministro Franceschini ieri il ministro degli esteri di Maio Roberto mi verrebbe da chiederti forse un po' banalmente cosa ci ha lasciato e insegnato quest'anno di pandemia molte cose compresa una fragilità del nostro sistema complessivo e anche una sua dipendenza dall'estero in molti aspetti che probabilmente avremmo negato fino al giorno prima invece ci siamo resi conto che uno dei paesi economicamente più rilevanti del mondo quale l'Italia è non nei primissimi posti della classifica ma neanche lontano dalla cima della classifica in poche settimane ha dovuto prendere atto che da solo non è in grado di produrre mascherine guanti in plastica camici per il suo personale ospedaliero le macchine e poi mese dopo mese che non siamo in grado non solo di generare il vaccino che è una sfida globale molto importante ma nemmeno di produrlo una volta che qualcuno ha inventato però posso chiederti una cosa sulla scia di quello che dicevi una fragilità una vulnerabilità che non riguarda solo l'Italia che riguarda un grande continente come l'Europa riguarda un grande continente come l'Europa che sta lottando per uscire da questa vicenda io sono un europeista convinto a maggior ragione in tempi difficili perché l'Europa è l'unico grande progetto che abbiamo non ne abbiamo non c'è un piano B e siccome non c'è un piano B dobbiamo tifare per il piano A e occuparcene ma non c'è dubbio e lo dimostra il confronto con gli orrendi disprezzabili inglesi che tutta l'Europa ha diciamo criticato per la loro scelta Brexit i quali avendo anche loro contato un numero elevatissimo di vittime ma ci stanno dando in qualche modo una lezione di efficienza nella reazione e lezione di efficienza e ho finito Andrea che l'Unione Europea non dovrebbe diciamo così prendere come una provocazione tentando di recuperare attaccando gli inglesi sull'unico vaccino fatto in Inghilterra ho inventato degli inglesi come invece sta accadendo ma magari provando a guardare alcune cose fatte là anche nell'organizzazione della distribuzione della campagna di vaccini e copiarle siccome copiare le cose intelligenti è comunque un atto anch'esso intelligente potremmo decidere di farlo come si dice insomma è una buona pratica importiamola e vado subito da Benedetto della Vedova proprio a questo proposito perché Roberto Arditti ha messo un po' il dito nella piaga e insomma chi fa da sé in questo caso la Gran Bretagna che comunque resta un grandissimo paese fa bene no? appunto c'è il riferimento a questo braccio di ferro tra Europa e Gran Bretagna per esempio alla filosofia vaccinale che si è adoperata in Gran Bretagna perché dico una cosa che tutti sappiamo con AstraZeneca ma non solo con AstraZeneca la Gran Bretagna ha detto intanto facciamo una prima dose al maggior numero di persone poi sul richiamo vediamo insomma ci sono molte discussioni ovviamente nelle mani anche di scienziati di esperti di medici e però l'Europa e vado da Della Vedova anche nel caso AstraZeneca con questi annunci che arrivavano via via dalle diverse capitali ha mostrato una debolezza molto forte o no Della Vedova? guardi sono d'accordo sul fatto che non abbiamo un piano B l'Europa è il nostro destino migliore dobbiamo lavorare per rendere più efficace ed efficiente la politica europea sulle pandemie non c'erano strumenti per una politica europea abbiamo fatto del nostro meglio tutta la politica vaccinale di approvvigionamento è stata gestita dalla Commissione e dagli Stati insieme un comitato congiunto per quanto riguarda gli Stati guidato dall'Austria io credo che il monito come diceva Arditti dovrà essere raccolto per avere scusate più Europa cioè la gestione delle prossime emergenze sanitarie se arriveranno quando arriveranno dovrà essere centralizzata in Europa anche quella dell'approvvigionamento noi scontiamo il fatto che le grandi aziende farmaceutiche europee non sono state al passo ne abbiamo una sui vaccini importanti come Sanofi Pasteur che è un'azienda francese non ce l'ha fatta mentre fortunatamente le grandi multinazionali americane Pfizer in testa Moderna ce l'hanno fatta a predisporre un vaccino in tempi rapidi sulla Gran Bretagna guardi io credo che se poi quando faremo il bilancio complessivo quindi contando anche le vittime eccetera eccetera sarà diciamo un bilancio non così brillante nemmeno per UK certo loro sul piano vaccinale sono partiti prima a noi dicevano siete in ritardo con l'EMA sull'autorizzazione dei vaccini abbiamo visto che si è preso un po' più di tempo il vaccino è stato adottato penso AstraZeneca però mentre in Gran Bretagna gli eventi avversi sono stati trattati con più pragmatismo sul continente prevalsa l'emotività questo è un elemento c'è un elemento anche culturale come dire certo allora facciamo così adesso io mi auguro chiudo su questo chiudo su questo io mi auguro che oggi gli scienziati dell'EMA diano il via libera di nuovo avendo fatto gli approfondimenti ad AstraZeneca ho letto che ci sono perplessità ormai diffuse nella pubblica opinione è un vero peccato e per quel che mi riguarda ma penso che riguardi tantissime persone in Italia io sarei pronto domani a farmi vaccinare con AstraZeneca dopo il via libera dell'EMA naturalmente perché bisogna superare l'avversione per i vaccini che purtroppo in queste settimane è ricresciuta e anche i sospetti le paure i dubbi rispetto a quello che è successo diciamola così alla comunicazione generale sono più che legittimi ripartiamo tra pochissimi minuti peraltro ripartiamo dalle parole ieri davanti alle commissioni riunite mi pare di Camera e Senato Affari Sociali del Ministro della Salute Speranza tra poco la situazione epidemiologica del paese è una situazione ancora complicata lo testimoniano tutti i numeri abbiamo un RT crescente da settimane ormai stabilmente sopra l'uno abbiamo una curva degli accessi ai pronto soccorso degli accessi ai posti letto in area medica degli accessi ai posti letto in terapia intensiva che è crescente da diverse settimane e che fotografa una situazione epidemiologica che non è semplice lo stesso numero di casi che noi riscontriamo di Covid è in crescita e la ragione essenziale di questa risalita della curva è da connettersi in modo particolare alla presenza di varianti il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione così difficile che stiamo vivendo da oltre un anno la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà nei prossimi giorni accelerare anche grazie all'aumento delle dosi che saranno a nostra disposizione il trimestre che inizia il primo di aprile l'attesa del nostro paese di oltre 50 milioni di dosi sommando tutte le agenzie le aziende farmaceutiche che abbiamo ormai a disposizione per la somministrazione del vaccino come è noto alla fine della prima decade di marzo è stato approvato da EMA e da AIFA anche il vaccino Johnson & Johnson che ha una caratteristica particolarmente significativa sul piano organizzativo e distributivo perché il primo vaccino monodose nelle prossime ore stiamo lavorando ancora a due interventi normativi che credo siano importanti uno per favorire un ulteriore maggiore protagonismo delle farmacie nella fase ulteriore di campagna di vaccinazione e un altro per favorire anche un maggior protagonismo degli infermieri nella campagna di vaccinazione ecco ieri così speranza in parlamento alcune cose insomma già note altre aggiornate quello che abbiamo capito che insomma entro il terzo trimestre di quest'anno insomma la previsione di vaccinare gran parte degli italiani entro l'estate arriveranno le dosi che ci servono peraltro l'altro giorno il commissario straordinario per l'emergenza ha detto che il fatto che arrivi il vaccino Johnson & Johnson monodose 25 credo dosi previste per l'Italia è come se significa come se ne arrivassero 50 milioni di queste dosi perché monodose insomma si cerca di mostrare anche un po' di ottimismo rispetto a una situazione che resta molto difficile e vado da Mario la via voglio farvi vedere però questo schema che è molto istruttivo del Corriere della Sera di oggi che riguarda i vaccini anti-covid quelli che sono arrivati e quelli che arriveranno ecco di semplicissima lettura si parte ovviamente da Pfizer BioNTech c'è nello specifico l'approvazione cioè l'ente regolatorio che l'ha approvato la nazionalità e la metodologia diciamo scientifica accanto c'è il Moderna AstraZeneca e poi appunto vedete il vaccino Janssen cioè Johnson & Johnson che dovrebbe arrivare entro la metà di aprile Curevac che è tedesco anche questo in attesa di approvazione così come il Novavax americano e poi lo Sputnik l'agenzia europea ha cominciato ad esaminare anche tutta la documentazione che riguarda lo Sputnik russo perché potrebbe esserci appunto un'approvazione e guardate che nell'efficacia perché c'è anche un dato che riguarda l'efficacia di questi vaccini tolto Pfizer e Moderna che sarebbero i più efficaci 95% entrambi lo Sputnik ha un'efficacia di quasi il 92% questo a proposito anche le tante discussioni che ci sono state Mario Lavia che idea ti sei fatta anche di questo braccio di ferro tra Europa e Gran Bretagna come dicevamo prima cioè ormai da più parti si sente dire e qui ci sono interessi geopolitici oltre che economico-finanziari colossali in ballo sì io penso questo sostanzialmente io sono relativamente ottimista in un quadro che naturalmente è un quadro drammatico e difficilissimo ma io sono ottimista sulla base delle cose che vengono dette dalle autorità non sulla base degli articoli di giornali tantomeno dei titoli dei giornali che in molti casi hanno fatto del danno perché hanno suscitato hanno procurato un'allarme un'enfasi probabilmente eccessiva io sto alle cose che dicono le autorità e io penso che i cittadini debbano stare a quello che dicono le autorità le autorità scientifiche che oggi pomeriggio diranno che AstraZeneca funziona e quindi si può andare avanti e le autorità politiche e lo Stato lo Stato italiano per esempio lo Stato italiano abbiamo sentito Speranza garantisce cioè non è che questo è un progetto garantisce una fase nuova della guerra cioè noi abbiamo avuto diverse avanzate e ritirate delle caporetto adesso c'è una fase diciamo decisiva della guerra che è la campagna di primavera di primavera estate nella quale l'Italia mette in campo dalle farmacie agli infermieri ai medici di base alla protezione civile naturalmente alle strutture del servizio sanitario nazionale cioè mette in campo tutto l'esercito tutto quello che può mettere in campo per chiudere questa partita entro le state o se non chiuderla comunque dare un colpo mortale al vaccino da questo punto di vista al covid un colpo mortale al covid volevi dire al covid sì sì al vaccino no al covid è chiaro no al covid ovviamente al covid utilizzando tutto quello che è utilizzabile tutti i vaccini utilizzabili quindi a questo punto di vista io non ripeto sono ottimista perché mi fido del mio paese quello che dico le autorità del mio paese che le autorità europee se in Gran Bretagna seguono altre strade con successo benissimo nessuno io adesso penso che sia abbastanza insomma tutto sommato fuori luogo si fa una gara tra chi è più bravo se l'Europa la Gran Bretagna la Gran Bretagna ha fatto tanti errori ha fatto una marea di morti in una prima fase si è ammalato in modo drammatico il primo ministro poi ha cambiato linea e siccome è un grande paese adesso le cose si stanno andando bene siamo tutti felici naturalmente che la Gran Bretagna però adesso fare le gare su chi è più bravo sinceramente io mi accontenterei saluterei con favore il fatto che c'è un'Europa che si coordina e il fatto che c'è un paese l'Italia che destina diciamo tutti il massimo dello sforzo per vincere questa battaglia io mi accontenterei di questo allora chiarissimo voglio andare dall'onorevole Lucaselli perché perché l'altro giorno per esempio sulla sci appunto della sospensione precauzionale di AstraZeneca Giorgia Meloni chiedeva che Speranza riferisse in Parlamento insomma ieri abbiamo sentito le parole di Speranza insomma voglio capire dall'onorevole Lucaselli si fida non si fida di chi di Speranza o dei vaccini perché di Speranza non mi fido affatto perché non si fida cioè ieri per esempio ha parlato di numeri in maniera molto netta 50 milioni entro il primo trimestre altri 80 nel terzo trimestre di quest'anno insomma ha fatto anche delle cifre e il ministro sì certo cifre che ha fatto anche l'anno scorso e secondo quello che diceva durante il governo Conte a marzo quindi adesso dovevamo già essere tutti quanti vaccinati io farei un paio di considerazioni la prima è che e lo dico veramente da europeista convinta ma mi pare che insomma non diremmo la verità se non dicessimo che l'Europa in questo ambito ha assolutamente fallito e che obiettivamente dal governo Draghi che si è dichiarato sin dall'inizio un governo atlantista io mi sarei aspettata che si mettesse più in scia all'America che non fare il vagone di coda in un'Europa che inizialmente insomma ha raccontato di muoversi come un blocco unico ma poi abbiamo visto che così non è stato prendo ad esempio la Germania e mi pare che in Italia in particolare sia mancato proprio il piano B lo avete detto voi all'inizio io rimarcherei questo concetto obiettivamente anche le dichiarazioni che ha fatto lo stesso Speranza non più tardi di qualche giorno fa dicendo che o è AstraZeneca o non è nessun altro vaccino mi pare che vada contro insomma proprio la base anche del nostro ordinamento del consenso informato noi sappiamo che in Italia c'è l'obbligo del consenso informato si dice qual è la medicina che viene somministrata e se il paziente non è d'accordo gli si deve dare un'alternativa mi pare che su questo ancora siamo molto molto indietro e lo dico proprio anche in confronto con quello che è successo in altri paesi in tutti in tutti i paesi angloamericani in Israele anche e persino nella Corea abbiamo avuto delle reazioni completamente diverse hanno avuto una percezione di quello che stava accadendo molto più tardi rispetto all'Italia eppure la campagna vaccinale è molto più avanti ed è quasi insomma finita e ha permesso di tornare a vivere in moltissimi paesi noi avevamo chiesto al Ministro Speranza quando c'è stato il blocco di AstraZeneca proprio perché abbiamo avuto la sensazione che questo potesse poi riverberarsi sulla percezione dei cittadini e sulla necessità di vaccinarsi avevamo chiesto che venisse a fare chiarezza e un atto di trasparenza in Parlamento e questo non c'è stato quindi questi giorni che noi abbiamo perso su questo dibattito vaccino sì vaccino no ha creato anche nella popolazione no vax fortissimi dubbi e sono dubbi che oggi paghiamo indubbiamente con un rallentamento molto forte quindi non è soltanto un problema di quante dosi arriveranno adesso è anche un problema di restituire fiducia ai cittadini affinché ci sia la campagna vaccinale questo è un problema adesso su questo voglio dire una cosa vi do però due notizie perché intanto in Francia alle sei di questo pomeriggio Macron deciderà su un nuovo lockdown che dovrebbe interessare tutta l'area di Parigi poi poco fa il vice ministro alla salute Sileri a proposito proprio della fiducia in AstraZeneca ha detto quando si parla di efficacia va vista la capacità del vaccino di ridurre la mortalità e la malattia e i vaccini su questo sono equivalenti se tu ti rifiuti di fare il vaccino AstraZeneca non puoi scegliere di farne un altro poi dovrai rimetterti in fila e non è detto che non ti ricapiti sempre con AstraZeneca salvo che facendo l'anamnesi il medico decida che per il tuo stato di salute sia necessario farne un altro no questo perché in questo l'onorevole Lucaselli ha ragione cioè c'è un numero crescente di italiani che adesso al di là di quello che dirà Ogiema non si fida più allora io condivido quello che tu hai appena detto e condivido anche il ragionamento dell'onorevole Lucaselli dico a Mario la via che però tutta la quantità di ansia riversata sui cittadini italiani ed europei in merito a uno dei vaccini cioè quello di cui stiamo parlando ora prodotto da AstraZeneca è venuta da figure istituzionali sì cioè non è Mario che è nato un movimento di popolo di vaccinati che si sono riuniti davanti alla sede dell'autorità europea del farmaco con dei sintomi di malessere convinti che derivassero dal vaccino sono state le istituzioni europee e di alcuni stati politiche politiche non regolatorie assolutamente Germania in testa tanto per essere chiari e non fare nomi che a un certo punto hanno usato parole di dubbio molto forte che in una situazione come questa lo dico a Mario perché ha introdotto il tema molto corretto e molto come posso dire molto serio di fidarci delle istituzioni tema che mi sento di sottoscrivere ma io dico che quelle parole di dubbio sono venute da lì e aggiungo rapidamente che in base a quale meccanismo scientifico si può avere un dubbio su una questione così gigantesca e risolverlo come probabilmente accadrà oggi o se non oggi domani nel giro di 5-6 giorni e allora siccome sciogliere un nodo scientifico di questo genere in 5-6 giorni io non sono uno scienziato mi guardo bene dall'entrata nel merito ma diciamo siamo capaci di intendere di volere e ci rendiamo conto che sciogliere scientificamente questo dubbio in una settimana non è possibile vuol dire almeno per come la vedo io che il problema era proprio un altro era politico allora facciamo così adesso in questo voglio sentire ovviamente anche il sottosello della vetro la facciamo subito dopo la pubblicità e ripartiamo a proposito di pandemia da un altro fenomeno che preoccupa molto che è il cosiddetto long covid perché molte persone che sono guarite dopo mesi e mesi continuano ad avere problemi di stanchezza di affaticamento di respirazione vi portiamo a Genova dove è nato un centro unico in Italia e tra i pochissimi nel mondo per riabilitare i pazienti post covid lo vediamo dopo la pubblicità nel palazzo della salute della stregenovese nel quartiere di San Pierdarena a pochi passi dal porto si pedala sulle ciclette si suda si fatica i macchinari per il potenziamento muscolare con un obiettivo comune recuperare la forma e la forza che si aveva prima del covid in questo che è l'unico centro di riabilitazione pubblico per i pazienti long covid in Italia uno dei pochissimi al mondo qui a distanza di mesi dalle dimissioni arrivano i guariti dal virus la cosa per certi versi preoccupante è che l'80% di quelli che vengono a fare una visita a tre mesi dal momento della dimissione per il covid hanno almeno un sintomo e questo sintomo di solito è l'affanno la fatica respirare o i dolori muscolari o la debolezza l'affaticamento il programma si compone di tre elementi base che sono l'allenamento aerobico che fanno sulle ciclette o sul tappeto l'allenamento di forza sulle macchine per fare potenziamento muscolare e in alcuni casi fanno anche un training sull'equilibrio perché c'è una quota di pazienti che dopo il covid hanno disturbi dell'equilibrio il pool è formato da nove specialisti psicologo compreso che supportano le persone nel percorso per tornare in piena forma la paura di non riuscire più a ritrovare quella forza fisica che era loro propria che come vediamo qua degli stracci invece fisici molto molto importanti che ovviamente si ripercuotono poi anche sulla psiche delle persone laddove poi mente e corpo è tutto unito e si influenzano a vicenda quindi le paure diciamo più grandi sono quelle poi di non tornare più ad essere quelli che erano abbiamo il supporto della psicologa che ci fa parlare ci fa raccontare la nostra esperienza ma soprattutto come stiamo vivendo adesso perché ora siamo ancora nella fase che ci sentiamo non malati ma non ci sentiamo al cento per cento ci sentiamo come in una palude cioè con questo terreno instabile tra i pazienti c'è il signor Giuliano 70 anni prima di essere intubato era convinto di non farcela la sua saturazione era scesa a 70 lui si definisce un miracolato qui nella palestra speciale ha ritrovato una seconda giovinezza ho ripreso tantissimo respiro bene cammino faccio più o meno tutto quello che facevo prima devo solamente recuperare ancora perché sono qua apposta condividere con con gli altri ti fa sentire meno solo perché io c'è stato un momento che mi sentivo quasi una malata immaginaria perché da ottobre i primi mesi ci stanno che stai male a gennaio io pensavo di riuscire a rientrare in palestra fatica anche Caterina di professione infermiera nei mesi scorsi si era trovata anche lei dall'altra parte della barricata ora che è guarita dal covid manda un messaggio di incoraggiamento tutti i pazienti i miei colleghi e tutto quanto forza ragazzi perché ce la facciamo bisogna lavorarci allora tra poco sono le 10.23 alle 11 appunto il presidente del consiglio Draghi a Bergamo prima la visita al cimitero monumentale la presidente del senato Casellati ha fatto sapere che oggi alle 12 di oggi i presidenti delle commissioni rispetteranno un minuto di silenzio proprio in memoria delle vittime della pandemia c'è poi il sindaco di Bergamo Gori che poco fa su twitter ha scritto la vicinanza di Draghi ci dà fiducia da qui deve partire un messaggio di speranza è intervenuto anche l'ex premier Conte che dice il ricordo ci porta a quei giorni in cui acquistammo tutti la piena consapevolezza che la salute dei nostri cittadini anche dei più anziani e vulnerabili sarebbe stato il valore supremo da difendere la cifra della nostra civiltà a proposito appunto di quelle immagini terribili del bare sui mezzi militari a Bergamo allora della vedova a chiudere la querelle sulla sulla decisione più geopolitica che clinica di questi vaccini il vice ministro lo scito il vice pardon il sottosegretario Sileri poco fa di nuovo ha detto AstraZeneca decisione geopolitica ha detto il dubbio può venire ma la scelta è stata su base clinica ha detto chiudiamo questa parte ma guardi io credo che si debba mantenere tenere fuori le motività guardare un po' la realtà io sono felice per i cittadini britannici che stiano ricevendo somministrazione di vaccini con un ritmo così importante però ricordiamo che la Gran Bretagna ha avuto 125 mila decessi 4 milioni e 2 sono stati contagiati un paese come la Germania che ha 20 milioni in più di abitanti ha avuto 71 mila decessi un po' più della metà ma insomma e 2 milioni e mezzo di casi quindi la gestione complessiva è evidente che sul continente c'è una reazione lo vediamo in Italia i Novax per 4-5 anni sono stati i protagonisti della discussione questo genera maggiore emotività usano AstraZeneca in modo massiccio nel Regno Unito i casi avversi statisticamente naturalmente sono gli stessi hanno generato meno allarme in Europa dobbiamo seguire dei passi diversi perché ci sono reazioni diverse c'è stato ad esempio nella contrattazione sui vaccini che ripeto è stata fatta dalla Commissione e dagli Stati un'attenzione particolare a un sentimento diffuso in Europa e massimamente in Italia avverso a Big Pharma cioè alle grandi multinazionali del farmaco quindi abbiamo spuntato prezzi più bassi e clausole di responsabilità più alte altri paesi hanno fatto scelte scelte diverse si tratta di recuperare il terreno ripeto vedremo quello che dirà Ema io spero che Ema dica che anche in Europa come New K si può continuare in modo sicuro a usare AstraZeneca e spero che tantissimi di noi lo useranno per vincere le diffidenze è evidente che noi dobbiamo in Italia proseguire ieri in questi ultimi giorni c'è stato un calo drastico delle somministrazioni di vaccino perché non c'è stato più AstraZeneca siamo arrivati credo ieri a 152 mila la settimana scorsa erano oltre 200 mila sono mancate 60 mila dosi di AstraZeneca somministrate però c'è un modo c'è un movimento importante io segnalo solo una cosa perché è un settore a cui sono affezionati ieri il sistema delle cooperative sociali italiane che è un pezzo molto importante del welfare privato cooperativo ha manifestato la propria disponibilità a partecipare al piano vaccinale ecco concentriamoci su questo e sforziamoci tutti di dare segnali di fiducia non alimentiamo l'emotività sui vaccini Big Pharma eccetera è evidente che se tu tratti con un farmaco come è il vaccino contemporaneamente decine di milioni di persone statisticamente qualcosa accade a quelle persone ma fidiamoci dell'EMA la più grande agenzia del farmaco internazionale questo ci vuole insomma anche molto mi verrebbe da dire lucido pragmatismo in questi giorni per esempio più di qualcuno ha fatto vedere quali sono gli effetti collaterali che si leggono sul bugiardino dell'aspirina se uno legge i possibili potenziali effetti collaterali dice ma come ho fatto a prendere l'aspirina fino ad ora cioè è chiaro con un farmaco un vaccino sviluppato straordinariamente in maniera così veloce è chiaro che poi ci sono dei rischi a ragione della vedova per carità noi ci fidiamo della vedova ci fidiamo tutti non è che però i dubbi sono venuti fuori per parole tue mie o di Andrea cioè i dubbi sono arrivati penso alle parole della settimana scorsa dei vertici dell'autorità europea sono i farmaci voglio dire sono loro che hanno messo l'ansia all'intero continente non noi tre o chi non ha titolo per parlarne posso perché parallelamente a tutto questo c'è c'è una partita gigantesca che è quella dell'economia e di chi soffre molto in Italia io ho visto per esempio l'altro giorno uno SOS vero e proprio di uno chef molto noto la Mantia che ha detto noi siamo allo stremo noi ristoranti i ristoratori il governo tolga la taria i ristoranti chiusi oggi per esempio molti ristoratori protestano rispetto alle nuove indicazioni dell'Istituto Superiore e dell'Inail cioè se si ha il chiuso ci vogliono almeno due metri di distanza e non più un metro quando non si porta la mascherina questa è la foto simbolo di questi giorni di questa ragazza ristoratrice mi pare di Ostia lì insomma stremata da quello che succede allora la domanda che faccio intanto Roberto Arditi e poi ovviamente farò in quanto importante esponente di governo a Benedetto della Vedova ma questo decreto sostegni che dovrebbe essere varato domani insomma l'abbiamo atteso forse troppo o no? il governo nel frattempo è cambiato e quindi è cambiato il ministro dell'economia e quindi che il governo diciamo così ci mettesse la testa anche con la composizione politica che ha allargata per qualche settimana secondo me non è un guaio in sé anzi io dico si prendano ancora una settimana se serve a farlo meglio sì però spero che esca da questo provvedimento qualcosa che va in due direzioni semplicissime la prima bisogna smetterla di dare agli operatori economici italiani un orizzonte temporale di due o tre mesi anche sul versante fiscale si faccia una strategia di uno o due anni perché gli operatori economici di questo hanno bisogno secondo si abbia grande cura dal punto di vista dell'amministrazione e qui lo dico soprattutto che è in Parlamento al Parlamento italiano in particolare c'è una distanza non banale ma assai critica tra il provvedimento legislativo e le somme la contenute e l'effettiva erogazione a cura delle amministrazioni di quei denari la distanza che separa queste due cifre è la distanza che separa la realtà dalla teoria e su questo secondo me ci vorrebbe a maggior ragione con questo governo sia chi è diciamo nella mega maggioranza ma anche penso a Fratelli d'Italia chi è l'opposizione il Parlamento italiano dovrebbe mettere la testa su questo e trovare un po' i numeri di questa storia tra quello che è previsto nelle norme e quello che effettivamente arriva agli italiani ho visto che il sottosegretario all'economia Durigon ha detto entro il 30 aprile tutti riceveranno sui propri conti correnti i soldi e comunque il 30 aprile è il 30 aprile non è domani allora adesso poi torno da sia l'onorevole Lucaselli sia della Vedova e anche da Mario Lavia intanto saluto Paolo Sottocorona pronto per raccontarci la previsione insomma del venerdì sabato e domenica si avvicinano a grandi passi per capire come sarà questo tempo poi la maggior parte di noi è chiusa in casa è abbastanza relativo a questo punto l'ansia per il fine settimana però comunque comunque cominciano a esserci più nuvole rispetto a ieri soprattutto al centro e al sud anche se per le piogge siamo a livello di qualche per il momento guardate nella seconda parte della giornata di oggi cominciano a intensificarsi sul settore occidentale qualcuno prende ancora vedete parte del nord e addirittura al centro qualche schiarita vale a dire un temporaneo miglioramento comunque attenuazione anche delle nuvole qualche pioggia al sud la giornata in cui si vede bene il cambiamento di passo è quella di domani perché abbiamo questo questo asse vedete si parte proprio dal settore occidentale dal Mar Ligure dalla costa azzurra si attraversa tutto il tirreno e si arriva al sud qui i fenomeni possono essere localmente intensi questo è maltempo vero al nord soltanto la Liguria a parte del Piemonte hanno piogge significative centro e sud diciamo temporaneamente soltanto con poche piogge che poi arrivano bene forti nella giornata di sabato vedete prendono l'appennino settentrionale per quello che riguarda il nord e poi il centro e il sud anche qui di nuovo con queste zone in giallo o addirittura in rosso che indicano fenomeni molto intensi poi piano piano le cose si vanno attenuando domenica ancora al sud direi che il maltempo ci sarà le temperature ancora non salgono ci vuole pazienza una come dire devo fare ammenda perché Michela mi ha mandato questa foto dice sembra neve l'abbiamo vista la neve sulle spiagge del sud quest'inverno in realtà è sale siamo a Margherita di Savoia e io ho detto ci sono le saline anche a Margherita di Savoia la provincia è Barletta Andrea Trani bene le saline di Margherita di Savoia sono le più grandi d'Europa e le seconde al mondo e quindi come dire ne abbiamo imparata un'altra è perché abbiamo anche questi primati queste eccellenze che vabbè io confesso non lo sapevo vabbè siamo sempre in tempo a dirlo grazie Paolo Sottocorona torniamo tra pochissimo parleremo anche un po' di cultura italiana di Dante non so se c'è già collegato con noi Alessandro Masi che è il segretario generale della Dante Alighieri lo vedo lo saluto buongiorno bentornato Masi ci vediamo dopo la pubblicità grazie allora prima di andare ad Alessandro Masi chiedo una grande sintesi all'onorevole Luca Zeglia Benedetto della Vedova a proposito di sostegni intanto della Vedova chiedo proprio una cosa molto banale domani si vara in consiglio dei ministri questo benedetto decreto o no? Immagino di sì io non sto in consiglio dei ministri ma sono d'accordo con quanto si diceva prima cioè meglio un giorno in più nel caso non credo che sarà necessario o qualche giorno in più per la stesura del decreto e molto tempo in meno perché i rimborsi i ristori gli indennizi arrivino a chi ne ha bisogno sì grazie per la sintesi chiedo all'onorevole Luca Zegli tanto ormai diciamo l'impianto si conosce si stanno affinando mettiamo così i dettagli da quello che sapete avete letto e avete visto vi soddisfa no? è ancora molto insufficiente che ne pensate? Voi ha citato Dante prima quindi mi viene in mente a proposito del decreto sostegni che il sentiero per il paradiso inizia l'inferno e allora io direi molto molto velocemente e noi abbiamo delle previsioni che sono veramente tragiche perché ci sono delle perdite per stimate per il primo trimestre su 9,5 miliardi ci sono 80 milioni di incassi persi al giorno ci sono 450 mila imprese italiane che rischiano di chiudere e si parla di un decreto sostegno adesso al di là delle tempistiche è chiaro che c'è stato un nuovo governo che è entrato quindi insomma ha dovuto prendere un po' le misure con quello che era stato fatto precedentemente ma il tema è anche non solo una tempistica ma è anche quanto e a chi noi sappiamo e abbiamo accolto con favore perché è una proposta di Fratelli d'Italia che venissero eliminati per esempio i codici Ateco dopodichè però capiamo anche che 12 miliardi per coprire tutta questa platea compresi per esempio i professionisti non sono evidentemente sufficienti servirà a fare sicuramente riferimento anche ai 15 miliardi delle misure precedenti dei ristori precedenti che non sono mai stati svincolati perché mancavano i decreti attuativi sicuramente è essenziale ma questo l'ha detto anche Draghi un ulteriore scostamento di bilancio per cui dobbiamo anche capire il quantum perché ovviamente in questo momento la platea di chi ha bisogno si sta allargando sempre di più le maglie invece di restringersi sono più ampie e quindi non è soltanto una questione di tempi ma è anche capire quanto andrà a queste aziende e a queste famiglie italiane dico solo una cosa che si incrocia vedete la tempestività ai ragionamenti che stiamo facendo poco fa il ministro dell'economia Daniele Franco parlando ai rappresentanti della maggioranza un vertice di maggioranza ha fatto sapere che sarà pronta il 30 marzo la piattaforma per gli indennizi garantiti appunto dal decreto sostegni e l'avvio dei pagamenti è previsto tra l'8 e il 10 aprile quindi si velocizza il più possibile una battuta voglio così vado subito da Masi da Mario Lavia insomma finalmente lo vedremo questo decreto sostegni intanto saluto e ringrazio Roberto Arditti che ha un altro impegno grazie per il contributo che sempre dà ai nostri confronti Lavia Sì è sempre poco i soldi sono sempre pochi però 12 miliardi a me sembra una posta abbastanza ragionevole abbastanza compatibile Draghi ha annunciato un nuovo scostamento di bilancio insomma mi sembra che si stia facendo il massimo da questo punto di vista il problema è quello che si diceva quello che diceva Roberto Arditti gli altri la tempistica e come arrivano questi indennizi o ristori in tempi rapidi però mi pare che le cose dicevi tu a proposito di quello che sta dicendo il ministro Franco in questa riunione mi sembra che inducano a una qualche speranza di far arrivare questi soldi presto e bene insomma tutti abbiamo capito che abbiamo poco tempo il tempo è la risorsa più preziosa fatemi dedicare un attimo questa parte finale a Dante e ad Alessandro Masi che è il segretario generale della Dante Alighieri ieri io citavo Di Maio Di Maio ha lanciato Dante 700 700 anni dalla morte nel mondo oltre 500 iniziative in un anno e peraltro credo Masi il 25 no di questo mese è il Dante di e c'è anche un'iniziativa molto importante vogliamo partire da qui sì io direi proprio partiamo da Di Maio ieri il presidente Riccardi ha partecipato a questa manifestazione indetta dalla Farnesina Dante 700 presentando quelle che sono le iniziative della Dante di ieri che delle 500 che tu hai citato quasi un quinto sono le nostre ma partiamo da quella più importante prima si era parlato di una piattaforma noi lanceremo Riccardi ha lanciato la piattaforma Dante Global e è una piattaforma che ristora la cultura italiana perché è la prima grande piattaforma digitale in cui metteremo corsi di lingua online formazione per docenti certificazione per coloro che vogliono apprendere l'italiano e questa piattaforma conterrà tanta tanta cultura perché partiamo dal libro di Ferroni l'Italia di Dante che diventerà una app per viaggiare per conoscere l'Italia avremo ben due film uno di Fabrizio Bancani su Bancale su l'esilio di Dante abbiamo l'altro di Lamberto Lambertini la nascita della Divina Commedia a Foligno perché lì fu stampata la prima Divina Commedia abbiamo centinaia di interviste presentazioni libri pubblicazioni insomma un carnet pienissimo di novità da mettere sia sul mercato italiano della cultura e sia su quello internazionale che è la platea più naturale della Dante con i suoi 400 comitati nel mondo la Dante domina un po' la scena internazionale possono essere tutte queste iniziative lo dico così sbaglio perché stiamo parlando di Dante di lingua italiana ma lo dico all'anglosassene il booster per rilanciare proprio la cultura che come tante altre attività penso allo spettacolo in generale i concerti i cinema i teatri sta soffrendo moltissimo credo proprio di sì anche se con questa parola Draghi ci batterebbe a tutti quanti avrebbe retaruito sì sì quindi usiamo un po' di parole italiane per dire che sì sicuramente questo è uno dei ponti attraverso cui noi possiamo riproporre quello che in fondo è l'assetto della quarta lingua più studiata al mondo che si compone di arte di musica ossia di tutte quelle di cibo di gastronomia di territorio che l'Italia offre al mondo sul mercato internazionale l'Italia credo che sia tra i primi industriali della cultura e questo ruolo va ribadito sicuramente va ribadito e questa è l'occasione giusta per rilanciare il sistema paese in un connubio tra cultura e impresa questo noi cerchiamo che l'impresa segua la cultura e che diventi per l'impresa la cultura invece questo è un incrocio come dire strategico fondamentale cruciale cultura e impresa mi viene facile citare cos'era l'ultimo verso dell'inferno e quindi uscimmo a rivedere le stelle che è un po' il desiderio che tutti abbiamo in questa fase ancora così difficile della pandemia Masi allora rivedere le stelle eccolo qui è proprio il titolo del nostro progetto perché sotto a rivedere le stelle ed è un augurio anche prima si citava la drammaticità del momento e questo non ce lo possiamo veramente dimenticare ecco che la cultura sia come Dante ci insegna una pagina che si apre su un fronte nuovo di cose noi speriamo che quest'Italia riesca a uscire quanto prima grazie all'impegno della politica di tutti noi dell'industria della gente comune dei tanti docenti che poi sono l'ossatura dello Stato perché noi affidiamo tutti i nostri ragazzi a queste migliaia e migliaia di persone incredibili che ci stanno formando le nuove generazioni ecco che la cultura possa essere una leva ma torno a ripetere una leva per l'impresa noi sappiamo che i francesi nelle loro delegazioni nel mondo portano sempre l'Alliance Française portano sempre la commissione di prodotto nazionale e lingua noi abbiamo grandi marchi internazionali che debbono essere sostenuti assolutamente dalla lingua parlo dei nuovi mercati del mondo arabo parlo dei nuovi mercati orientali la Cina la Cina oggi è il massimo contributore nei corsi di lingua per la Dante Alighieri perché migliaia e migliaia di studenti cinesi vengono in Italia a studiare nelle nostre accademie nei nostri conservatori e ovviamente noi dobbiamo offrire il meglio ecco l'ultima battuta io parlavo del Dante Di perché mi pare che il 25 marzo c'è la lettura della divina commedia di Benigni al Quirinale o no? sì sì ovviamente assistiamo a questo miracolo che Benigni ha compiuto perché ha riportato la divina commedia a livello popolare ed è una grande cosa però non dimentichiamo grandi nomi che hanno letto Dante come Gassman come Sermonti ecco quella è l'occasione e noi ci auguriamo che il Presidente della Repubblica possa venire a inaugurare questa nostra piattaforma Dante Global perché il click dato simbolicamente all'avvio di questa nuova pagina con Dante torno a ripetere possa rimuoversi tutta la grande macchina italiana della vedova io le risparmio perché non abbiamo neanche tempo tutto il ragionamento su più Europa ne parliamo un'altra volta tanto noi siamo contenti se lei torna a trovarci e invece vorrei un suo commento su questo perché ogni tanto bisogna aprire anche una finestra su qualcosa di forte dal punto di vista anche identitario del nostro paese che funziona che può funzionare e può rilanciarci o no? sì sì più Europa è viva è vitale siamo democratici molto e quindi abbiamo anche qualche crisi di democrazia interna di scontro io sono d'accordissimo con le parole che sono state dette è lo sforzo che il ministero degli esteri sta facendo cioè di legare nella promozione anche delle economie dei prodotti italiani tecnologie prodotti capacità talento e cultura che è quello che abbiamo in più il di più il plus che può mettere l'Italia e tutto il sistema economico italiano rispetto ad altri pensiamo lo diciamo lo diciamo pensiamo per esempio rispetto alla Germania grandissimo paese è quel senso di talento di profondità della cultura secolare come quella di Dante e non solo e quindi l'impegno sempre maggiore deve essere di integrare nella promozione del paese all'estero anche sui mercati nuovi ormai fondamentali che venivano citati la proiezione culturale e quella economica insieme voglio ricordare a proposito sempre delle sofferenze di un intero settore il 27 marzo dovevano riaprire cinema e teatri almeno nelle zone gialle sappiamo qual è la colorazione attuale dell'Italia quindi questo sarà possibile solo in Sardegna che attualmente è l'unica regione in zona bianca intanto saluto Francesco Magnani pronto per l'aria che tira ciao Francesco buongiorno Andrea si seguiremo questa giornata di lutto nazionale prima giornata della memoria delle vittime del covid e tra l'altro leggo una notizia appena battuta il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge che istituisce questa giornata come una celebrazione che sarà rinnovata tutti gli anni collegamento in diretta da Bergamo con il nostro inviato dal cimitero e collegamento da Bergamo dal parco della trucca dove saranno piantati degli alberi in memoria delle vittime del coronavirus tanti gli ospiti con cui ragionare Fabrizio Pregliasco Silvio Garattini oggi è il giorno in cui attendiamo il risponso dell'EMA su AstraZeneca la giornalista scientifica e volto di questa rete Margherita De Buck ragioneremo di guerra al covid ma anche di queste sensazioni di guerra fredda con due grandi conoscitori dell'America il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e Maria Giovanna Maglie poi alle 13 ci viene a trovare Carlo Cottarelli nella sua nuova veste di consulente del ministro Brunetta per l'ammodernamento della pubblica amministrazione tante cose restate con noi ovviamente noi vi aspettiamo grazie io chiudo salutando tutti voi i nostri ospiti con una notizia che è arrivata poco fa l'ex viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi della Lega è stato assolto in appello per le cosiddette spese pazze quando era consigliere regionale in Liguria assolti tutti gli imputati perché il fatto non sussiste in primo grado Rixi era stato condannato a tre anni e cinque mesi l'accusa era di peculato e falso tanto vi dovevamo anche perché spesso abbiamo ospitato Rixi anche in passato e di questo anche si è parlato grazie a tutti i nostri ospiti all'onorevole Lucaselli al sottosegretario della vedova a Mario Lavia ad Alessandro Masi ci vediamo domani stessa ora stessa rete adesso c'è la rachettira a Mario Lavia a Mario Lavia